E allora eccoci qua, buonasera e ben ritrovati in compagnia di Terzo Tempo come ogni lunedì Dai nostri studi per raccontarvi quello che è successo nell'ultima settimana E per anticiparvi quello che succederà nella settimana che stiamo vivendo Del torneo più bello di Calciotto di tutta Roma Per il momento sono solo ma si alterneranno come al solito i nostri ospiti qui nei nostri studi Non ci sarà invece Marco Iorio a cui va il mio personalissimo ringraziamento Per il modo in cui mi ha brillantemente sostituito la settimana scorsa C'è invece come tutte le lunedì al freddo e nello specifico questa sera allo Sport City Il nostro Cristian Amadei che ci presenta la sfida tra Super Ciccio e Checco dello Scabicollo Che apre di fatto questa settimana della Serie A della Lega Calciotto Buonasera Cristian Ancora una volta una cortese buonasera dal Circolo Sport City di Prigoria Tredicesima giornata Serie A Lega Calciotto, l'ultima del girone d'andata Ricordiamo il Checco dello Scabicollo, è già campione d'inverno Le squadre che si affrontano, il Super Ciccio e il Checco dello Scabicollo Si schierano con questi otto iniziali per il Super Ciccio tra i pali Bandilli In difesa Pasqualoni e Pantaleoni Daniele Centrocampo a quattro con Temperini, Avanzo, Stupa e Maramao In avanti Princi Galli, a disposizione Alfonsi e Martino Questa sera allenatore il capitano Mazzetti Per il Checco dello Scabicollo rispondono Clementi tra i pali Difesa 3 con Michetti, Cortese e Cuozzo A centrocampo Mollica, Cichella e Bogdanov In avanti Cola, a disposizione Simonetti, Soldano e Tibusti Squadre che sono scese in campo attualmente solo 0-0 A voi la linea studio Allora grazie naturalmente a Cristian Amadei Che ci ha letto le formazioni con cui si affronteranno Almeno a partire dal primo minuto Super Ciccio e Checco dello Scabicollo Becce che apre questa giornata di campionato Attenti con Match Clu anche per l'importanza Della posta in palia tra due squadre assolute Protagoniste finché della stagione Però facciamo un passo indietro Torniamo alla settimana scorsa E con l'ausilio naturalmente della grafica Andiamo a leggere i risultati dell'ultimo turno di campionato Non sono mancate le sorprese Non sono mancate le emozioni A partire dalla vittoria per 4-3 Della Lazio Calciotto contro il Pizza Boom 5-3 esterno del Super Ciccio contro la Ragnatela Pub 2-2 tra FC8 Eurobet 5-1 del Checco dello Scabicollo contro la Stiavo 2005 Colpaccio esterno dei Yammer's 3-2 contro il Mr. Jeff Due pari tra Studio Bonfiglio e Global Service Ambiente 7-1 del Professione Casa contro il Calciovideo.com Per una classifica che modifica con il Checco dello Scabicollo O meglio Ecco la grafica che conferma il Checco dello Scabicollo Prima in classifica 29 punti 26 Razio Calciotto 25 Global Service Ambiente 24 Super Ciccio 20 punti Mr. Jeff 17 Pizza Boom 14 Professione Casa Stiavo 2005 Ragnatela Pub Studio Bonfiglio 13 punti Eurobet 12 per FC8 9 per Ammers 1 per Calciovideo.com E classifica spezzettatissima Soprattutto per quel che riguarda la primissima posizione Ma in particolar modo le ultime due Ammers e soprattutto Calciovideo Sembrano di aver preso un distacco importante Soprattutto il Calciovideo Sembra già virtualmente in Serie A2 Nonostante non siamo neanche al giro di Boa Però Lasciamo spazio subito alle immagini E ovviamente la classifica inizia con il Checco dello Scabicollo E di conseguenza noi non possiamo fare altrettanto Vi lascio quindi al commento a cura di Marvin Angeloni Della partita stravinta dal Checco dello Scabicollo Nell'ultimo turno Contro la Steaua 2005 Dodicesima giornata Incontro importante tra Checco dello Scabicollo E Steaua 2005 Ancora Shekali Sotrokan Cade Goal incredibile Una bomba a sorprendere tutti Lo Steaua va subito sotto Una cannonata Subito la conclusione Che però impatta sulla retroguardia arancione Tanto in avanti Occasionissima Tiro Tirinca Tanto Mollica di prima intenzione verso Kojan Forse sperava in un rimbalzo Venenoso De Simone De Simone intercetta il pallone Una posizione Buona Buona E Kojan non interviene E subisce Il gol Grave disattenzione di Kojan Inganato forse dalla sfera Resa viscita Dalla pioggia copiosa Che sta cadendo sullo Stella Azzurra E ne ha approfittato L'attaccante Del Checco Prova a tirarsi su Lo Steaua Scecari Sulla Sinistra Vilcu Prova ad andare a pressare La difesa Del Checco Dello Scapicollo La Nardecchia però si difende De Simone Conclusione Di sinistro E punisce Ancora una volta Kojan Non c'è partita Fino a questo momento Il Checco Dello Scapicollo Tre gol Che mettono a sedere Lo Steaua A 2.500 Assolutamente impotente Viste le capacità balistiche Del numero 9 Lo Steaua Parte Destro Preciso Ma Molon si supera Vola Verso l'incrocio E nega la rete Al centro avanti Dello Steaua Ma subito in avanti Il Checco Kojan da solo E poi Si fa mancare Le forze All'ultimo Paratata all'indietro Verso Paglia Paratata all'indietro A Galli Galli Verso Cuozzo Di prima intenzione Mollica Verso la sinistra Conclusione Beffato Kojan Per la quarta Volta Un po' Troppa Poca concentrazione Per l'estremo Difensore rumeno E subisce il suo quarto gol Che probabilmente Mette a sicuro Il risultato Per il Checco Dello scapicollo Del Checco Dello scapicollo Tilinka da fuori Ci prova Ma Molon A differenza Del Suo Collega Avversario È in gran forma Tutto pronto Tutto pronto per il secondo Tempo Passaggio All'indietro Verso Tilinka Che si porta Un po' In avanti Supera Il centrocampo Prova subito La conclusione A sorprendere Molon Ancora Stegaro Peccato ovviamente Per il risultato Estremamente Negativo Giai Giai controlla il pallone Attende un compagno di squadra Arriva Stegaro Stegaro Per trovare lo spazio buono Serve Dogario Dogario Contro Molon Serve Ottimamente Sulla sinistra E c'è Il Losteavo A 2005 Che accorcia Le distanze In avanti Il Checco Dello scapicollo Occasione buona Per rialzare la testa E c'è il Gol Imperioso Che seda Le possibilità Di ripresa Finisce qui il match Dominio assoluto Del Checco Dello scapicollo Non di certo La miglior partita Per la squadra Di Moldoveano Che accetta La sconfitta Per 5 a 1 E allora abbiamo visto Questa scorpacciata Di gol Del Checco Dello scapicollo Che ha subito Risposto presente Dopo la sconfitta La prima stagionale Patita la scorsa Settimana Contro il Global Service Checco che si conferma In testa La classifica Crisi invece Per la stava 2005 Che se non erro Collezione Il terzo risultato Negativo Consecutivo Una crisi Effettivamente Quella con pagina Lumen Difficile da spiegare E anche Difficile da valutare Però L'avevo detto In serie di presentazione Si alterneranno Si alterneranno Come consuetudine Qui nei nostri studi E qui al mio fianco Anche questa sera I ospiti Ospiti del campo Grandi ospiti del campo Il capocannoniere Forse il giocatore principale Della formazione Dei Hammers Una squadra che sta Lottando Per non rimanere Impantanata Nella zona retrocessione Vale a dire Davide Bettinelli Buonasera Davide Buonasera Il ritardo Causa imprevisti Si scusate il ritardo E' un piacere essere qua E ti voglio fare i complimenti Addirittura Si per come Viene condotta La trasmissione Addirittura Grazie Davide Oggi Davide Al divano Tutto per sé Perché come abbiamo detto Manca Marco Iorio Allora Davide Abbiamo visto Prima di entrare Nel discorso Hammers Abbiamo visto La vittoria Che con lo scapicollo Impossibile Non aprire una parentesi Anche con te La squadra era a battere L'abbiamo detto In lungo e largo Settimana scorsa L'ha perso con il Global Ora è tornato a vincere Questo Checco Sembrerebbe inarrestabile No Perché come abbiamo visto Sette giorni fa Può anche perdere E allora qual è Il punto di forza Di questa squadra Forse il carattere davvero Ma soprattutto Anche la qualità Dei giocatori Non solo il carattere Io mi ricordo Quando l'abbiamo affrontata L'abbiamo dato Del fio da torcere Però comunque Sono anni che Fa sempre un buon campionato E ha vinto Come negli altri L'ha vinto l'altro anno Un anno fa Quindi È una squadra forte C'è poco da fare Io tra l'altro Ero presente Diciamo sugli spalti Come telecronista Nella partita Che voi perdeste Di misura Contro il Checco Lo scapicollo Vedendo un ottimo Ammers Degli ottimi Ammers Allora entrando Nel capitolo Ammers Perché questa squadra Sembra assolutamente Incostante E soprattutto Sembra esaltarsi Con le grandi Come vedremo anche Con il Mr. Jeff Come è stato Con il Checco E soffrire oltremisura Con le squadre Non dico piccole Ma sicuramente Un po' più alla portata Ma la nostra È una squadra Un po' Atipica Perché Un po' pop Sì Sì Diciamo Dipende soprattutto Dai giocatori Che Sono presenti Perché Comunque ci sono Giocatori importanti Che fanno la differenza Però poi Se Non si presentano al campo Ci sono queste difficoltà E Come siamo andati A vincere L'altra Settimana C'erano dei giocatori importanti Che facevano la differenza E si è visto Un po' rimane un tarlo Anche per voi Questo fatto Della regolarità Nelle presenze Sì Perché Purtroppo Deve essere preso seriamente Questo campionato Perché è un campionato Che ogni anno È difficile Giocare E Se non Se non sei attrezzato Fai fatica A vincere Prodittandoci però A noti un po' più dolci Nell'ultimo turno I Amers hanno vinto Con una grande rimonta Nel finale Che adesso tra un po' Andremo a vedere A commento proprio Di Marco Iorio Che non so se ti sei accorto Era là al campo Quindi è anche un po' Sì 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 Mi ha anche un po' Portato bene Contro il Mr. Jeff Che gara è stata? Tanti colpaccio Il vostro Ma è stato Ma direi sì Il colpaccio È stata una partita Dove noi abbiamo sempre Fatto la partita Si può dire Che siamo sempre stati Alla metà campo Loro E Poi premetto Che c'era In porta A un giocatore Che gioca a centro campo Vuoto Sì vuoto Che è stato impegnato Solo una volta Credo E ha fatto un buon intervento Su punizione Poi la partita L'abbiamo fatta noi E secondo me Era giusto Che prendessimo I tre punti Ecco Anche il discorso Del portiere È un po' Un crucio Perché voi vi alternate Spesso a Trevali Ricordo male Sì 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 Anche congelatori di movimento Purtroppo Non si prende seriamente E quando non prendi seriamente Questi tipi di tornei Che sono importanti Perché questo è uno Dei tornei più importanti Che c'è a Roma E se non lo prendi seriamente Come si dice a Roma Prendi le batoste Batosta che però Nell'ultimo turno Comunque Soddisfazione Che nell'ultimo turno I Amers si sono tolti E come Andando ad espugnare Come abbiamo detto L'impianto della Longarina Nel freddo E nella nebbia Soprattutto Dell'impianto di Ostia Perché la compagine Davide Bettinelli E non solo È riuscito In una grande impresa A ribaltare il risultato Quando ormai sembrava Ampiamente Dalla parte del Mr. Jeff Con un 3-2 finale Ha ottenuto punti importanti Soprattutto per quel che riguarda La propria rincorsa a salvezza E allora A commento di Marco Iore Vi lasciamo alle immagini Proprio di Mr. Jeff Amers finita 3-2 per quest'ultimi Buonasera Ben ritrovati Dalla Longarina Dove il Mr. Jeff Ospita gli Amers Con emozioni contrastanti Sulle due panchine Gli Amers Che cercano ancora Punti salvezza Il Mr. Jeff Per ripartire E rimanere Nella zona playoff Pascia per lui Tornato in campo Il palleggio di Morosini Cerca la fascia Il numero 10 Degli Amers Peleggi Riesce a far sul palone Poi Morosini Ritorna sullo stesso Stare di finta Riesce a trovare L'esterno Pallone in aria Arriva proprio Per il numero 11 Il pallo colpito E ancora D'Avello Sprega clamorosamente Da D'Avello Al quarto minuto Ora Cesaroni Serie di finte C'è un fallo in attacco Buona posizione Vertice destro Dell'aria Della porta difesa Da vuoto Degli Amers Sul pallone va proprio D'Avello Col suo mancino Difesa a tre Barriera a te Per gli Amers Parte Ora L'attaccante Conclusione Rete Rete del vantaggio Degli Mister Jeff Degli padroni di casa Scusate Con la conclusione Raso terra Sotto nel punteggio 1-0 A loro sfavore Batte rapidamente Palla per il numero 4 Che prova la conclusione E c'è il palo Che nega La gioia del gol Alla staffilata Di Latini Abbastanza Buona la posizione Invece Sembra partire D'Avello Parte Crescenzo In porta E la grande parata Di vuoto Palla profonda Cercare Betinelli L'aggancio Attaccato da D'Avello Mette sul secondo pallone Non c'è nessuno Il numero 10 La sponda E la rete Del pareggio Da parte Degli Amers Ottima La giocata Di squadra Con la sponda Perfetta Da parte Di Crescenzo Che mette Il pallone Dal centro Parte ora L'angolo Sul secondo palo Arriva lo stacco Di testa E il fallo Di mano Che non viene Senzionato E poi La conclusione Ancora libera Cesaroni A cercare Proprio D'Avello Supera il difensore E poi il portiere Il pallonetto E il pallone Che si sa Che in rete La giocata Di D'Avello L'uscita a voto Di A punto vuoto Scusate Il gioco di parole E poi il controllo E il sinistro Magico Di Andrea D'Avello Doppietta per lui 2 a 1 Alla longarina Per il mister Jeff Mancino Ha respinta Sulla schiena Di Reina Latini Si accentra Carica la conclusione E c'è il gol Del pareggio Da parte Di Dioccio Aiuti Il tiro dalla distanza Che questa volta Ha sorpreso Scarsella Allo scadere Il 2 a 2 Siglato alla longarina Tra gli Ammers E il mister Jeff Gli Ammers Che provano L'affondo finale Ancora la conclusione Numero 11 E la deviazione Di Bettinelli Prove sul primo palo Ancora Scarsella Entra in area In questo istante Numero 11 E clamoroso Il gol del sorpasso Degli Ammers Con Del Poggetto Che riesce di testa A beffare Scarsella sul palo Più lontano Si toglie la maglia Ed è uno spettacolo In campo L'esultanza degli Ammers Che spugnano Il campo della longarina Il gol allo scadere È proprio Del numero 16 Del Poggetto 3 a 2 Ammers Rimonta completata Parte ora Il calcio d'angolo Pallone a spiovere Rimane lì E termina qui il match Salgono a 9 punti Gli Ammers Che trovano Una vittoria Clamorosa In 8 uomini E senza portiere Finalmente Abbiamo Diciamo Ricevuto qualcosa Da quello Che diamo in campo Perché fino adesso Abbiamo dato tanto Ma abbiamo ricevuto poco Per l'ennesima volta Senza portiere Rimaneggiati Però oggi I ragazzi Sono grandissimi Soddisfazione Ci mancherebbe altro Da parte di Augusto Pasquale Un po' Il leader carismatico Anzi assolutamente Il leader carismatico Di questa squadra Davide Quanto rischia di cambiare La vostra stagione Questa vittoria Perché l'abbiamo vista Ottenuta in maniera Che dire Rocambolesca È poco Beh sicuramente Questa vittoria Ci ha dato fiducia E poi La dedichiamo Soprattutto A Augusto Pasquale Che lui ci mette L'anima In questa squadra Non ci fa mai mancare nulla E se lo merita Se lo merita C'era una volta Il detto E diceva appunto Lo spirito Ammers Non solo ovviamente Oltre manica Ma anche e soprattutto Nel nostro torneo Quello della Lega Calciotti Allora io Ti chiederei di Commentarmi O meglio Facciamolo insieme Queste immagini Appunto Relative proprio All'ultimo gol No questo qua Sono le immagini Ovviamente del gol subito Questo qua L'immagine ovviamente Relativa all'ultimo gol Quello del Poggetto C'è stato proprio Un tuo cross Che ha tenuto vivo Una palla che sembrava morta Gran colpo di testa Ma più che il gol Ecco forse Questo è il momento De immortalare Cioè Un'esultanza che su questi campi Difficilmente si vede Beh Anche a fine partita Dentro i spogliatori Ce lo siamo detto È stata un'esultanza Bellissima Perché Diciamo che In queste ultime partite Ci ha detto male Questa vittoria Ci voleva Perché ci dà fiducia Ci dà Insomma Ci mette sulla strada giusta Per cercare altre vittorie Perché secondo me Questa classifica Ci penalizza Non è di nostra competenza Non è presunzione Perché ci sono veramente Dei giocatori validi E poi sono Contento soprattutto Per Marco De Polgetto Perché secondo me Ha fatto un gran gol E non era molto facile Bel gol È vero Molto bello È vero Un gol più da bomber Professor bomber Prima ramo in debito Brevissima parentesi Con un episodio Te sei un attaccante Quanti gol hai fatto Quest'anno Ne ho fatti pochissimi Sono pochissimi Ha sbagliato Anche qualche rigore Sì Siamo sbagliati Ma non sto in doppia cifra Però Ti dirò Preferisco Più vincere le partite Che essere un bomber Di razza Te tra l'altro Stravincesti una classifica Marcatore due anni fa Sì L'ho vinta due anni fa Poi l'altro anno Beh Io sono due anni Che faccio il suo campionato Il primo anno L'ho fatto Giocando Diciamo Neanche tutte le partite Sono arrivato a metà anno E ne ho fatti 30 Insomma E quest'anno Poi l'altro anno Va bene Sono rotto il crociato Non ho giocato E quest'anno Diciamo Gioco un po' più per la squadra E cerco di farla girare Non è Una frase di circostanza Assolutamente Però È vero Potrei fare anche più gol E fare di più Però Diciamo che Beh però scusami Il gol del 3-2 del progetto L'assist è da catalogare a te E soprattutto Cioè L'hai tenuto vivo una palla Che veramente sembrava morta Però ti chiedevo Da grande attaccante Hai detto giustamente Erano due anni fa Con mezza stagione in cascina 30 gol all'attivo Una statistica spaventosa Ti chiedo di commentarmi Questo gol Che si riferisce A una rete realizzata Dal che colo scapicollo Quindi facciamo un balzo all'indietro Di Nardecchia Nello specifico Che approfittando anche L'errore di un avversario Prende la palla Ci pensa Probabilmente Tra i 2-3 secondi Ma neanche E poi scaraventa Questo mancino Sotto l'attraverso Un gol incredibile Sì va bene Questi sono I classici gol Da Da bomber Puro E Diciamo ha fatto Un gran gol Con Con violenza Ha tirato la palla E Da fargli solo i complimenti Complimenti a Nardecchia Eravamo in debito Con lui Visto il consigliato Che ho lanciato il video Tra Che colo scapicollo E stavo nel 5 Nella prima parte Così come siamo in debito Pensava che non ce ne fossimo accorti Con il gioco di parole di Iorio Uscita a vuoto Di vuoto Era daveroso Sottolinearlo Perché Insomma Se ne sento Così come si vedono pochi gol Alla Nardecchia Se ne sentono pochi Anche di cose Alla Iorio Però Se dalla grafica Mi fanno Mi rimandano La classifica Aggiornata Ovviamente Dell'ultimo turno Con le gare Ovviamente Dell'ultimo turno Vediamo che Gli Ammers Sono a 9 punti Davanti a voi Ci sta l'FC8 L'istante 3 punti L'Eurobet Che nell'ultima settimana Ha ripreso a macinare Punti E ottime prestazioni E poi ci sta questo gruppone Che porta fino al Professione casa Diciamo che siamo Siete quasi tutte In lotta ancora Per un retrocedere Tranne il calcio video Sì sì Ma Io sono sicuro che Se Giochiamo Come abbiamo giocato Contro Mr. Jeff La salvezza è sicura Perché Non posso pensare altro Non posso pensare altro A una retrocedzione Non ci penso Chi tra quelle Innanzitutto richiede Il calcio video Secondo te è spacciato? Ma Non lo so Vabbè Noi ci abbiamo perso Anche in Coppa Italia Non lo so Non so neanche Sinceramente Neanche ho visto La partita Quando abbiamo giocato Un campionato Cioè In Coppa Ci ho giocato Però le altre partite Non le ho viste Quindi non so Che tipo di squadra Possa essere Anche perché Una partita secca È differente Da un campionato Tra chi invece Sta sopra Ci sono anche Tante grandi Storiche Di questo campionato Professione casa La stava 2005 Anche l'FC8 Insomma Quella di quest'anno È una lotta a salvezza Attenzione però Andiamo allo Sporsini Perché c'è un gol Cristiano Madei Una rovesciata Ha messo il pallone Alle spalle di Clementi Incredibile L'ha rimessa in gioco Da palo laterale Da parte di Diego Pantaleoni Ha servito in area Maramao E ha messo il pallone Alle spalle di Clementi Con una splendida rovesciata L'acrobastia Del numero 17 Del supersticio Porta in vantaggio i suoi 1-0 Allo Sporsiti E allora Gran gol Immaginiamo Dopo la descrizione Cristiano Madei Di Maramao Per il supersticio Super supersticio Che si porta in vantaggio Contro il Keiko Scabicolo Gara da seguire Assolutamente fino alla fine Perché ne prevediamo Delle belle Dicevo però Tornando a parlare Di Ammers e di classifica Una notte a salvezza Quest'anno Che veramente Si preannuncia Molto intensa Perché ci sono anche Delle grandi squadre Professione casa Steavo 2005 Insomma Si è alzato Il valore di questo Campionato Come ti dicevo prima Ogni anno Questo campionato Diventa difficile Quindi Di conseguenza Bisogna Rapportarsi Anche con le nuove realtà Perché Super ciccio È una neopromossa Lazio Calciotto Lazio Calciotto Che poi Diciamo Io faccio il tifo Anche per loro Perché Qualsiasi squadra Che fa parte Della polisportiva Faccio il tifo Faccio il tifo Insomma È super ciccio A me comunque Mi ha stupito Una neopromossa Ben quadrata E Ha dei buoni giocatori Giocatori anche importanti Prima di lanciare Il secondo Anzi il terzo Contributo video Ricollegandomi A una sfumatura Che appena hai detto Saresti andare a giocare Nella Lazio Perché qualche giocatore Senza fare i nomi Nell'ultima campagna estiva Campagna ovviamente acquisti Ha lasciato la propria squadra Comunque Si è trasferita appunto Alla Lazio Calciotto Legittimamente Tutto sommato Perché tifando Lazio Una volta che la Lazio chiama Ovviamente è difficile Rispondere no Tu ci saresti andato? Ti hanno contattato? Ti contatteranno? Non lo so No Non lo so Se mi contatteranno o no Ma Io sto bene dove sto Perché Devo dare tanto Ad Augusto Pasquali E poi non si può mai sapere A fine campionato Anche perché poi Se c'è un trasferimento Poi lui si arrabbia Perché è capitato E Devono chiedere a lui Insomma Quindi diciamo che Pasquali Però chiederesti a Pasquali Di certi da Lazio Qualora si facesse avanti Oppure no Rimani fedele agli Hammers Ma rimango fedele agli Hammers Poi se In futuro Gli Hammers Dovessero iscriversi più A questo campionato Sicuramente Certo Non direi no a Lazio Come faccio a dire no a Lazio Diciamo che Coniando un po' Un termine Che è andato molto di moda Nell'ultime settimane Nell'ambito calcistico La Lazio La squadra ti sta meno antipatica No vabbè Io Come ti dico prima Qualsiasi squadra Che fa parte Della polisportiva Dalla palla a nuoto Alla palla canestro Io la tifo Quindi Per me Con lo donorio Nella scorsa settimana E che ha visto il pareggio Tra lo studio Bonfiglio Immobiliare E Global Service Ambiente Commento a ferma Di Michael Di Costa L'incontro di stasera Vede contrapporsi Lo studio Immobiliare Bonfiglio E il Global Service Cosimi La mette in mezzo Pallone rimpallato Ancora Cosimi Non sa chi giocarla Però Attende lo sgaglio Il compagno Che si libera E poi una conclusione Che viene murata E allora ancora una volta Sestili Che va dalla bandierina Attenzione Sestili Un pallone arcuato Sul secondo palo E c'è il vantaggio Del Global Service Ambiente Con Santoro Che è solo A battuta del calcio D'angolo di Sestili È arrivato con un sinistro All'altezza del secondo palo Ha provato la battuta Di prima intenzione Ed è riuscito A trafiggere Pinotti Passa quindi in vantaggio Nei primi minuti di gioco Il Global Service Ambiente Va Bossi Dalla bandierina Attenzione Entrano in quattro Del Bonfiglio La palla in mezzo E c'è il pareggio immediato Il pareggio immediato Dello studio Immobiliare Bonfiglio Con un gol Sugli sviluppi Del calcio D'angolo Battuto da Bossi È stato un giocatore Dello studio Immobiliare Bonfiglio Che è intervenuto E da pochi metri di testa È stato Belli Che è riuscito A trafiggere Gabriele Quindi dura Meno di 120 secondi Così non è stato Attenzione C'è un sinistro Dalla lunga distanza E Pinotti Alza sopra la traversa Attenzione C'è l'azione condotta Sulla sinistra Il pallone aperto A cercare Patarini Patarini la mette In mezzo Attenzione C'è un fischio Cosimi e Santoro Toccherà il primo per il secondo Santoro Per Cosimi Che gol di Cosimi Che sul tocco di Santoro Fa partire una saetta Che si insacca Alla sinistra di Pinotti Gran gol di Cosimi Che riporta avanti Global Service Ambiente Qua al Donorione I calciatori si sono disposti Nelle rispettive metà Campo Invertite Rispetto al primo tempo Nel gioco che si snoda Ora a centrocampo Bello ancora Il numero di Giancarlo E con un tunnel Supera un avversario Pallone perso nuovamente Dai calciatori del Global Attenzione Va sulla destra Va sulla destra Il 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 Bonfiglio Attenzione Citronelli Per un Gol Il velo di Nappi Che non Siamo riusciti a capire Se ha toccato il pallone Fatto sta che Lo stesso È terminato in rete Per il pareggio Dello studio immobiliare Bonfiglio Del Del Global Service Attenzione Citronelli Apre tutto sulla destra Ancora Citronelli Pala per Cardelli Cardelli va sul fondo La mette in mezzo Cardelli Il pallone rimane là E poi Nappi Non riesce A degiarlo Verso la porta difesa Da Gabriele Tra le braccia di Pinotti Attenzione Citronelli Citronelli Apre sulla destra Anzi no Citronelli Il destro Che parata Di Gabriele Che va A togliere un pallone Da sotto L'incrocio Dei pali Attenzione All'azione Condotta da Quinquigno Che va a lungo su Danversa Danversa Lavora Attenzione Alla conclusione Di Patarini Tempestiva E' uscita di Gabriele La partita E' giusto Era una partita Difficile Lo sappiamo Dall'inizio Giocavamo Con tre secondi In classifica Ma noi Conosciamo Il nostro Odore Da qui A fine Del campionato Dimostreremo Vogliamo puntare I pedaglio E ce la metteremo Tutta Per la chiesa In fondo Gran bella partita Quella Che si è svolta Appunto Al Donorioni Tra Studio Confio Immobiliare Global Service Ambiente A dimostrazione Che non Sempre i punti In classifica Possono essere Uno specchio Autentico Di quello Che può essere Però un esito Nella partita Tra Global E Studio Confio Ci sono almeno Dieci punti Di differenza E tutto sommato Insomma Il Global Ha sofferto Tantissimo Voi avete affrontato Il Global Una squadra Che sta facendo Benissimo Quest'anno Si sta facendo Benissimo Infatti Questo E' un campionato Poi se mi ripeto Sempre le stesse cose E' veramente Difficile Perché ogni anno Diventa sempre Più competitivo E quindi Bisogna essere Attrezzati Per fare Questo Attrezzato Lo è sicuramente Il Global Service Ambiente Il livello Del campionato Che cresce Soprattutto Grazie a voi Giocatori E allora Ti chiedo Davide Di commentarmi Questo gol Uno degli episodi Che abbiamo Selezionato In questa partita Calcio di munizione Praticamente Da fermo Di Cosimi Palla che si infila All'angolino Un gol forse Meno spettacolare Di tanti altri Ma che Almeno dal mio punto di vista Ha un coefficiente Di difficoltà Altissimo Perché il compagno Di squadra Gli tocca addirittura La palla All'indietro Quindi lui vedete E' costretto Addirittura A indietreggiare E non prendere in corsa Un gol incredibile Secondo me Io direi Fare i complimenti Al cameraman Perché E' anche stato difficile Riprendere Perché ha tirato Una grossa botta E' stato bravo Perché Coordinazione perfetta E Veramente Un bel gol Complimenti Ha un'illusione ottica In effetti Cioè il compagno Gliela dà un pochettino Dietro questa palla Forse dove era messa La telecamera Magari Gliela dà anche Un po' più dietro Perché Aveva paura Che uscisse Qualcuno Dalla barriera E quindi ha un po' più di tempo Per calciarla Infatti c'è L'uomo che Cerca di andare Andare Sulla palla Però Vabbè Un gran gol Un gran gol di Cosmi Forse sono le piedi migliori Di tutto il campionato Bettinelli a parte No no Sicuramente sarà uno dei migliori No no E' un giocatore che calcia benissimo Al di là che è un giocatore Molto utile Molto duttile Soprattutto perché può giocare Sia sulla linea di centrocampo Sia su quella difensiva E' un giocatore che calcia benissimo Però tra i protagonisti del Global Service Ambiente C'è anche il portiere Daniele Gabriele Un altro nome storico Che nell'ultima estate è passata Dalla Roma Calciotto al Global Guarda qua che paratina Che ti tira fuori Gabriele Davide Questa è una gran parata Su una conclusione Molto bella di Citronelli Che forse ha avuto un po' Anche troppa libertà Dagli avversari Però Gabriele parata Tra l'altro in controtempo Difficilissima Beh sì E' stato riattivo Anche comunque Ha tirato Il tiro è stato bello violento E' stato bravissimo E' stato riattivo Un bel colpo di legno ha avuto Bravo Complimenti anche al portiere Voi Donorio non avete ancora giocato No Quindi non vi siete ancora approcciati A questo nuovo impianto Tra le tante Tra i tanti let motive Che si rincorrono All'interno dei corridoi Della Lega Calciotto Serie A Ma non solo C'è anche questo legato Appunto ai campi da gioco Un tempo legnava Questa riceria Secondo la quale Alla stella azzurra Si segnava più da fuori aria Perché da dovunque stavi Potevi tranquillamente calciare in porta Invece magari lo Sporsiti è più grande Cioè il campo incide a questo livello E in questo torneo specifico Beh comunque I vari campi della Lega Sono diversi tra loro Come lo Sporsiti Io penso che sia il più grande di tutti E' vero Diciamo che magari Il giocatore che ha battuto adesso La punizione Ha fatto gol E avrebbe segnato anche allo Sporsiti Come si è coordinato E per la violenza che ha tirato Infatti è vero Perché insomma Il gol di Cosimi Ma come tanti altri Quest'anno si fanno Gol molto più belli A proposito di gol Allora Io andrei a vedere la classifica Marcatori Che marginalmente Almeno per il momento Riguarda Davide Bettinali Ma che ovviamente Lo riguarda in quanto attaccante Non sei tra i primi della classe Quindi hai fatto meno di 7 gol Classifica Marcatori Che vede ancora in testa Filippo Mazzesi Del Super Ciccio Nonostante stia scontando Una squalifica Con 15 gol A 14 A 14 Ricco Stornelli A 14 Fabrizio Ferrante Del Professione Casa Che ha fatto una tripletta Nell'ultima giornata A 12 Marian Vilco A 11 Tommaso Danversa Del Global Service Che sono ormai un paio di settimane Che non si sta più esprimendo Almeno numeri alla mano Ai livelli di inizio stagione 10 gol per Morezzi Stegaru Ippoliti Estriani A seguire di tutte le altre Anche Davello 10 gol 8 per Nardecchia 10 per Nappi Cecati E Angele Dell'Eurobet Detto questo Altra gran bella partita Dell'ultima settimana Un'altra partita Che ha riguardato Due squadre Protagoniste Sin cui di un'ottima fase iniziale Da una parte C'era il Pizzaboom Che non sta vivendo Effettivamente Un gran momento di forma Dall'altra c'era Soprattutto la Lazio Calciotto Sempre più Autentica Rivelazione Di questo campionato Vi lascio a Lazio Calciotto Pizzaboom Vi lascio al commento Di Cristiana Madei E tutto è pronto Alla stella azzurra Per quello che è il derby Dodicesima giornata Di seriale Cacacciootto Si affrontano La Lazio Calciotto E il Pizzaboom Punti pesanti in palio C'è movimento in area Almeno 4 giocatori Della Lazio Vanno a Tentare di deviare Attenzione Rischiano l'autorete I giocatori del Pizzaboom E poi il miracolo Del portiere Caterini Sul sinistro Di Sanetti Rizzo Sanetti De Angeli Bozzetto E Lana A disposizione Botti Vitacolonna E Martino Tanto la conclusione E la Lazio È in vantaggio Il gol Del numero 7 Striani Un sinistro Di collo pieno Che si è insaccato All'angolino basso Alla sinistra Di Caterini Quando siamo Al sesto minuto Del primo tempo Del primo tempo La Lazio È in vantaggio Centralmente La palla La palla arriva Sanetti Il destro Il palo Il palo pieno Colpito da Sanetti Buono questo pallone Recuperato dal Pizzaboom Stornelli lascia Per un compagno di squadra Barriera a 4 Più un disturbatore Giallo-Rosso Il palone per Sterbini Il sinistro E la palla in rete La palla in rete Uno schema di calcio d'angolo Cavariglia che serve Sterbini Che di sinistro Raso terra Insacca la sfera All'angolino basso Alla sinistra Di Mastropietro Daniele vita colonna Prendendo spazio Nell'out di destra Tanto Sterbini Manca l'incro... E la palla in rete Un errore difensivo Di Sterbini La palla che termina Al neo entrato Martino E il suo destro Non lascia scampo a Caterini Palla che si insacca Sotto al set Per il 3-1 Non passa neanche un minuto Dal 2-1 del Pizzaboom Che la Lazio Si porta di nuovo avanti A basere il primo pallone Tiro direttamente in porta Fra le braccia di Mastropietro Pallone rimesso in campo Verso Filippi Che di petto serve Stornelli Tiro di prima intenzione Pallone che filtra Ancora palla Pericolosa in aria Ancora Stornelli E la palla in rete Il destro incrociato di Stornelli Filtra in mezzo a tre gambe Della difesa retroguardia Bianco Celeste E si insacca All'angolino basso Non riesce Mastropietro A deviare la palla Un po' telefonata Questa conclusione Intanto il pallone arriva Annicita il destro E la palla non è trattenuta Per un attimo da Mastropietro Che in due tempi Riesce a liberare Allarga il pallone Sulla sinistra Per Cioccari Viene poi fermato Da Marco Rizzo Completa La ripartenza Bianco Celeste Di Lillo Ora Di Lillo Ancora Di Lillo Sulla destra Serve il pallone in mezzo E la palla in rete L'assist del numero 18 Bianco Celeste Per la corrente Numero 2 Crisafulli Che ha fatto tutto il campo E ha depositato la sfera Sotto al set Non perde tempo Il pizza boom Stornelli se ne va Lungo l'out di sinistra Palla centrata Controlla Nicita Cavaniglia La palla respinta dal portiere Poi Sterbini Serve Stornelli Spalla la porta Entra in area di tacco Serve Nicita Ancora Nicita Il destro E la palla in rete Il gol La palla che si insacca Sotto al set Il numero 11 Giallo Rosso Riccardo Giannini Porta il punteggio Sul 4 a 3 Sugli sviluppi Di un calcio d'angolo E in questo momento Termina la sfida Alla Stella Azzurra Lazio calcio a 8 Batte pizza boom 4 a 3 Sì una bella partita Complimenti La Lazio Dimostra deve essere Una squadra Organizzata Come Neuromossa Sta lì davanti Quindi gli faccio i complimenti Noi Come al solito Ci svegliamo sempre Troppo tardi Il discorso Non è tanto Essere 8 9 11 È importante La motivazione Una partita importante Difficile Sapevamo della forza Del pizza boom Sappiamo che anche Da Compartiti come queste qua Che possono essere rimaneggiate Non rimaneggiati Sono squadre temibilissime E perciò Siamo stati bravissimi Siamo stati concentrati Determinati L'abbiamo giocata Credo che abbiamo vinto Meritamente Senza Rubare nulla Subito lì nello Sport City Cristiano Madei Cambia risultato Rimpallo In area di rigore Del Super Ciccio Il pallone Che è arrivato A Cristino Il Bogdanov Che è un po' sbilanciato Di tacco Ha superato Con un leggero pallonetto Il portiere Che con la mano Ha benviato la sfera E poi è arrivata Nei piedi di Cola Che ha fatto 1 a 1 Allo Sport City Ne va ripresa Il punteggio E in parità Tra Super Ciccio Che con lo scapicollo Pareggia quindi Che con lo scapicollo Con un altro grande attaccante Qua abbiamo Davide Bettinelli Ma anche Erwin Cola Che anche lui Non rientrava Nell'elenco dei marcatori Che abbiamo letto poc'anzi Però pure Erwin Cola È un giocatore Che nelle scorse stagioni Soprattutto nell'ultima Ha fatto veramente la differenza Però Sta facendo benissimo Questa Lazio Calciotto L'abbiamo vista Battere anche una corrazzata Come il Pizza Boom Te tra l'altro Mi hai detto Durante il filmato Che conosci molto bene Uno dei protagonisti Della Lazio Calciotto Stigliani Lo conosco bene Che sta facendo benissimo Tra l'altro Beh sì Ma anche quando era Un po' più giovincello Giovincello È giovane anche adesso Però quando Magari Io ero un po' più grande Quando giocavamo insieme Era già bravo Ovviamente giocava Da calcia 11 Sì Non a calcia 11 Bellissimo sinistro Beh in effetti sì E forse ecco Prima parlavamo di Cosimi A proposito di Cecchini Da fuori area Anche Striani Che tra l'altro Ha segnato anche Uno in Pizza Boom L'abbiamo visto È uno dei giocatori Forse che calcia Molto bene Cioè tra i migliori piedi In assoluto Di tutto il torneo Al pari proprio di Cosimi Però Un gran gol Nella gara Vinta appunto Contro il Pizza Boom L'ha fatto anche Marino È stato il gol Del 3 a 1 Questa conclusione di destro Che si infila sotto L'incrocio dei pari Trafiggendo un portiere Come Caterini Che insomma Non è assolutamente Facile da superare Però ecco Qua c'è anche Una grave responsabilità Del difensore Sterbini Nella fattispecie Che si sgancia Troppo presto E liscia il pallone Magari avrà calcolato male Il rimbalzo del pallone Credo che poi È difficile che lui sbaglia Perché vabbè Non lo conosco personalmente Però C'ho giocato contro spesso Giocatore importante Sì È bravo È un buon giocatore Può capitare Può capitare a tutti Di sbagliare Ti chiedo invece Di commentarmi Questo secondo gol Che andiamo a vedere Che è sempre realizzato La Lazio Calciotto Ed è questa ripartenza Che ha come protagonista Assoluto Crisa Fulli Che si fa Prende tutto il campo Vedete Il numero 2 Che viene qua sotto E va poi Dopo aver rubato palla Nella propria area di rigore Va a finalizzare Quest'azione Io ti chiedo Davide Diciamo Questo è un gol Meno da punta Quale sei te Ma è più un gol Diciamo Non so Da fluidificante Se vogliamo così definirlo Però ti chiedo Soprattutto di valutarmi Un attimino Sempre la tenuta Difensiva Del pizzaboom Insomma Com'è possibile Farsi infilare In questo modo Ma sinceramente lo so Neanche se Questa partita Giocavano a due O tre È stato bravo Il tersino destra Riproporsi E andare sullo spazio Libero Comunque io Devo fare i complimenti Alla Lazio No perché No perché sono di parte Però devo fare i complimenti Per Non per l'individualità Anche se Conosco Zriani È molto bravo Il giocatore Però per come sono disposti in campo Sono organizzati E Secondo me È la squadra migliore Che sta messa in campo Perché Si vede anche Una sorta di schemi Magari mi sbaglio Però loro sono Veramente organizzati bene Te la butto là Qualcuno sorriderà Ha più possibilità Di recuperare La Juve La Lazio di Petkovic O il Che con lo scapicolo La Lazio calciotto Perché qua si parla In entrambi i casi Di grandi inseguimenti E perché no Eventualmente Di grandi imprese Ma La Lazio di Petkovic È una buona squadra Ma Davanti a lei C'è una squadra Ancora più forte Quindi Io penso che la Juve Abbia già vinto Lo scudetto E invece la Lazio calciotto Ha più possibilità Ma Anche Che con lo scapicollo È Diciamo Una sorta di Juve Però Credo che Non si può mai sapere Quando si va a fare Le semifinali Playoff O le finali Sono partite secche Quindi Sono partite Particolari Non si può mai sapere Senti Invece Dall'altra parte del ring All'angolo opposto Nella gara che abbiamo appena vista C'era il pizza boom Una delle grandi storiche Di questo campionato Prima abbiamo Adesso abbiamo visto Un paio di episodi Che hanno un pochettino Evidenziato Oltre che grandi giocate Dei giocatori Della Lazio calciotto Anche qualche amnesia Di troppo in fase difensiva Noi abbiamo preparato Una scheda Un file Come ci piace chiamarla a noi Con gli ultimi risultati Del pizza boom Pizza boom Che nell'ultima gara Ha subito tanti gol 18 complessivamente Ne ha fatti Soltanto 13 Che ha ottenuto Risultati altarenanti Vedete addirittura Reduce da tre sconfitte consecutive Contro Checco Scapicollo Studio Bonfiglio E appunto Lazio calciotto Un punto Nell'ultime quattro partite Consigliando il pari Devo la ragna della Pab In questa serie Di sei partite L'unica vittoria Oltre tutto di misura Arrivata contro l'FC8 Un calo Tra la fine del 2012 E l'inizio del 2013 Importante per questa squadra Che ha visto Forse ormai Quasi inesorabilmente Allontanarsi Il primo posto E quindi Il titolo di campione Della regular season E se non inizia A macinare punti Caro Davide Questa è una squadra Che rischierebbe Anche qualcosina In termini di playoff Perché abbiamo visto Nella classifica Mandate in onda Inizio trasmissione Che dietro comunque Le inseguitrici Non mancano Lo vedremo anche Nei video Che stiamo per proiettare In particolar modo Il professione casa Che è in grande ripresa E tutto sommato Il pizza boom Se non si dà una svegliata Effettivamente Rischia anche di venire Eliminata clamorosamente La lotta playoff È possibile Volevi ad affrontare il pizza boom Che impressione Era fatto Perché a inizio anno Quello che te prima Hai detto Per il Lazio Calciotto Cioè che era la squadra Che giocava meglio Si diceva per il pizza boom Una squadra spettacolare A tratti Ma allora Io penso che I giocatori di qualità Fanno la differenza Però Quello che fa più differenza Di tutti È come stai messo in campo Puoi avere anche Giocatori meno bravi Però se Stai lì Bello Compatto E se non prendi gol Prima o poi Lo fai Quindi Credo Io la penso così Preferisco Più essere Più avere un assetto Di squadra Più compatto Più equilibrato Che Sì E avere giocatori Un po' più forti Comunque io penso Che poi alla fine Pizza boom Pizza boom Scusami Davide Se ti interrompo Linea allo Sport City Cambia ancora risultato Di collo destro Ha messo la palla Alle spalle di Vandilli Si era Involato lungo l'out Di sinistra Cichella Si era centrato Liberandosi della marcatura Di un uomo E di collo destro Ha messo la palla Alle spalle di Vandilli Per il 2 a 1 Risultato che cambia Allo Sport City Che cosa lo scapicollo In vantaggio 2 a 1 Sul super ciccio Scusami Davide Se ti interrompo Questo è un raggiornamento Importante Poi hai visto La foto di Cristiano Madej Badente anche Nel suo profilo Bravissimo comunque Bravissimo 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 Veramente Io mi limito alla foto Valle Quello professionale Ovviamente Cristiano È inappuntabile Però quando mi lanciano La foto di Amadei È sempre bene Lanciarla Perché altrimenti Amadei potrebbe In qualche modo Risentirsene Però Dicevamo Pizza boom Appunto Che se non resta Un pochettino Pagando Una cattiva organizzazione Più che una scarsa qualità Perché la qualità C'è ovviamente Sì La qualità c'è I giocatori Ma io penso poi Fino in fondo Che questa è una squadra Che ci arriverà Ai playoff Pizza boom Tra l'altro E conosci sempre qualcuno Perché prima Ti ho visto sorridere Quando abbiamo Intervistato Daniele Rossi Sì lo conosco Di solito Non se lo merita Io ho scaricato Tutta la responsabilità Da Amadei Tant'è che è stata Sorpresa con lui Però in effetti Deri d'accordo Oppure no Sì dai Se lo merita Se lo merita È un giocatore Che poi alla fine Fa la differenza Però grande partita La settimana scorsa È stata anche quella Che è andare in onda La Stella Azzurra A proposito di Cristian Maree Perché l'ha seguita lui Per noi di terzo tempo Vale a dire La sfida tra Ragnatela Pub E Super Ciccio Vi lasciamo quindi A questo servizio E non cambiare canale Perché rientrano in studio Accanto a Bentinelli Si siete Gianpaolo Morsa Più tardi Una cortese Buonasera a tutti voi In diretta Dal Circolo Sportivo Stella Azzurra Dodicesima giornata Di Serie A Lega Calcio A8 In campo Ad affrontarsi La Ragnatela Pub E il Super Ciccio Squadre che Prima di dare vita All'inizio della sfida Hanno osservato Un minuto di silenzio Per la scomparsa Del papà Del giocatore cardinale Della Ragnatela Pub Deve poi spazzare Casali Ancora l'inserimento Di Stufa Che subisce Fallo dal limite A incaricarsi Della battuta Il sinistro E la palla in rete Il gol Del vantaggio Del Super Ciccio Direttamente Da Calcio Piazzato No Il gol Viene annullato Dall'arbitro Per Per un fallo in area Temperini La battuta Da lontano Di Temperini La palla in rete La palla in rete Il pareggio del Super Ciccio E intanto viene anche a Monito Morezzi Il Super Ciccio porta il punteggio sull'1-1 Il destro incredibile di Temperini dalla tre quarti Spiovente in area Il tiro al volo E la palla in rete Un gol strepitoso di Maramao E il Super Ciccio è in vantaggio Direttamente da calcio d'angolo Lo Spiovente colpito al volo Di sinistro dal numero 17 In maglia nera E partita anche la ripresa della sfida La Lega Calcio a 8 Tra Super Ciccio E Ragnatela Pub Con il Super Ciccio Che conduce 2-1 Serve Cuda sulla destra Movimento di Acerbi Che gli restituisce il pallone La palla in rete La palla in rete Il pareggio della Ragnatela Pub Un'azione splendida L'1-2 Tra Cuda Acerbi Il pallone di ritorno E l'inserimento Col tempo perfetto in area Del numero 9 In maglia bianca Che ha messo la palla Con un tocco morbido Alle spalle Del portiere Pividori In virtù dell'inserimento Di Placido Ed attenzione Il tiro E il vantaggio Del Super Ciccio Il pallone Di Princi Galli Ha tagliato in due Come un coltello La difesa Della Ragnatela Pub E l'inserimento Del numero 8 In maglia nera È stato impeccabile Ancora il pallone Gestito Da Princi Galli Ancora lui Affrontato da due persone Si guadagna Un calcio di punizione Da posizione gustosa E interessante La rincorsa Di Princi Galli Lo schema Il tiro E la palla in rete Un gol strepitoso Da parte Di Pantaleoni Lo schema Su Calcio piazzato Il pallone Appoggiato Da Princi Galli Verso Pantaleoni È un destro A giro Imprendibile Quando il portiere Gli si è fatto incontro Con un cucchiaio Ha provato a batterlo Un colpo di Reni Attenzione Una rete strepitosa Il destro al volo Il destro al volo Di Pantaleoni Seconda perla Del numero 6 Del super ciccio Direttamente da calcio D'angolo Palla che spiove Melchiorre Controlla di esterno Lancia in area Per Placido Ancora Placido Controlla Si accentra Tira giro E la palla In rete sotto Al set Ancora un altro Gol splendido Quello di Placido Che ha controllato Si è accentrato E di destro a giro Ha piazzato la palla All'angolino Sotto l'incrocio Dei pali Dove Pividori Non poteva arrivare Punteggio che cambia Ancora Alla stella azzurra Super ciccio 5 Ragnatela Pub 3 Esce palla Al piede Morezzi Che poi guadagna E termina In questo momento La sfida Alla stella azzurra Il super ciccio Si impone 5 a 3 Sulla ragnatela Pub Si Vogliamo dedicare Questa partita La mano alle cardinali Hanno fatto anche Questa maglietta Per averlo qui Anche oggi Non poteva venire Perché Ha avuto il lutto In famiglia E niente Purtroppo Non gli abbiamo potuto Dedicare la vittoria Ma L'impegno c'è stato Super l'Oriano Sport City Pareggio del super ciccio Cristiano Amadei In campo In spallo laterale Quando Un minuto fa Il pallone Era arrivato Dalle parti Di Maramau In area Che aveva servito La corrente Compagno Stufa Con una sponda E il destro Di collo pieno Dall'unico Di Stufa Che era Infraccato All'angolino Passo Alla destra Del portiere Clementi Ora ci sono Delle elementi Proteste Per un pallone Laterale E l'arbitro È costretto Ad ammonire Il numero 9 Del super ciccio Principali Ricordiamo Il punteggio Super ciccio 2 E con lo Capicollo 2 E allora Abbiamo cercato Di capire In tutte queste urla Che ci sono state Ovviamente Noi siamo sul campo Direttamente Quando andiamo a fare Le telecroniche Quindi l'audio È assolutamente live In presa diretta Il pareggio Del super ciccio Quindi è una gara Importante Che sta arrivando A grandissimi rally Fino alla fine Il super ciccio Che sta tenendo testa Che con lo scapicollo Capolista Però Come ho detto prima Di lanciare il servizio Si amplia Il nostro studio O meglio Rimane Delle stesse dimensioni Si stringe Anche un po' Lo spazio Anzi Per Davide Bettinelli Sul divanetto Perché accanto a lui Vediamo Arrivare Gianpaolo Morsa Buonasera a tutti Come va Gianpaolo? Bene bene Oggi tra l'altro Un momento importante A suo modo Perché la settimana scorsa È stato il confronto Designatore Allenatore Quest'anno Questa volta Designatore e giocatore Bello Ci vuole Ci vuole Ci vuole Si si No No È bello confrontarsi Gianpaolo A proposito di confrontarsi Ti stuzzico subito Perché la partita Ah no Però perdonami Prima doverosa puntualizzazione Ti abiti pure il calcio a 5 Si Perché 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 te lo dico ovviamente Non perché mi sia arrivata La sindrome di Iorio Ma perché c'è un momento importante Se possiamo anche passare Alla sua impressione Dal prossimo 25 febbraio Torna Il tornare di calcio a 5 Dei campioni Vale a dire la Virgin Cup Vedete qua sotto Appunto Virgin Cup 25 febbraio Con la splendida Aurora Sulla destra Il trofeo Lo scettro Dei campioni Diciamo appunto 25 febbraio Inizia L'edizione 2013 La Virgin Cup Come al solito Grande spettacolo Tra il circolo Sport City Servizio Nello spicherato Che sta girando In questi giorni E ovviamente Potete anche chiamare Il numero utile Che è l'800-038-476 Ripeto 800-038-476 Mentre invece C'è il sito www.virgincup.it 25 febbraio La data da segnare In agenda Inizia l'edizione 2013 La Virgin Giampaolo Dopo questa breve E doverosa parentesi Ovviamente dedicata La Virgin Cup Primo episodio Su cui ti stuzzicherei Perché questo è Il classico episodio Da Noviola Perché nessuno Amadei compreso Ha capito effettivamente Cosa sia successo Innanzitutto però Scusami Torniamo un attimo Allo Sport City Perché a proposito Cristian Amadei Triplice fischio Finisce due pari Tra Checco e Superciccio Prego Cristian Rimetti Rimetti Cori 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 Aspetta un attimo Cristian Amadei Avete sentito Stava un attimo Cori Cori Non so bene Cosa stia succedendo Forse Gli stavano rubando La macchina Comunque Finisce due pari Risultato Checco Possibile Ma Dei C'è una bella macchina Non lo so Per cosa ti ho visto Poi l'immagine Di Amadei Che corre Con quella faccia Insomma Mi dà un po' 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 Comunque Dicevamo Gian Paolo Rivediamo l'immagine Detto che Superciccio Checco Si è conclusa Sul due pari Finale Qua c'è un fallo Fischiato a Checco Scapicollo E già qua C'è stata Qualche protesta Perché Forse Morezzi Ha toccato il pallone Come indica Con la mano Però poi Fare proseguire L'azione Perché questo Calcio di punizione Che termina a rete Viene annullato Dal direttore di gara Probabilmente Per un fallo E danni di Marinucci Mi commenti Entrambi gli episodi Il primo Cioè quindi il fallo E il motivo Per cui è stato annullato Il gol Fallo c'è Innanzitutto Il fallo c'è Sì C'è il fallo Gambatese Entra Secondo me Il fallo c'è È sempre la sensazione Sul Sì È il conseguente Calcio di punizione Che è stato annullato Quindi batte E segna E però qui il gol Viene annullato Sì Il gol viene annullato Ah sì Perché c'è un giocatore Il capitano Il capitano Del Regno della Pabba Che lo vediamo per terra Quindi L'albitro comunque Sta in buona posizione Perché ha la visuale libera Quindi penso che abbia visto Una trattenuta Nei confronti del capitano Del Regno della Pabba Quindi annulla il gol Però scusami Posso dirti una cosa Se torniamo un attimo indietro Non voglio Mettere ovviamente La croce Addosso al direttore Ricara Nel momento in cui Si batte il calcio di munizione Se è dalla regia Mi danno una mano Fermiamo qua Il direttore Ricara Non sta guardando Dentro l'area di rigore Ma sta guardando Il giocatore che batte Come fa poi Ad accorgersi Del fallo Dentro l'area Forse si lascia Un po' a trarre D'inganno Dalla caduta Di Marinucci Ti chiedo io No vabbè Lui è un arbitro esperto Comunque gira un po' Riesce ad avere Una visuale buona lì Quindi Tighetti Ha l'occhio Allenato 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 Ottimo Quindi Molto esperto Quindi lui Gioca molto di Di anticipo Diciamo Però Gianpaolo Questa gara Oltre ad essere Stata condizionata Da questo doppio episodio Anche un po' singolare Perché ha riguardato Prima Ragna della Pabba E poi Il Super Cic E sta condizionata Anche da grandissimi gol Io manderei in sequenza Queste due splendide reti Il protagonista Daniele Pantaleoni Prima è questa conclusione A giro Che per carità Tutto sommato Nella media Bella anche L'intuizione Su calcio e punizione Di Princicalli Che apre per Pantaleoni Che prende la mira E la mette all'angolino Il secondo però Probabilmente È destinato ad essere Il gol più bello Della stagione Perché Davide Questa è veramente Una prudezza Beh sì È veramente Un bel gol E sono d'accordo con te Questo è il gol più bello Ma guarda Che è difficile Anche vederlo Vedere Cioè È un gol È difficile Perché Comunque Sono 20 metri Di Di lancio E prende la coordinazione Con un pallone Con un tiro Bello violento No è stato proprio Un bel gol Bellissimo In questi casi Se torniamo leggermente Indietro Sono i passetti Che fa il giocatore Guardate Questi passetti qua A me fanno impazzire Perché è proprio È quello no Il segreto No è quello Per prendere il tempo Giusto No Questi qua Sì sì È quello per prendere Il tempo giusto E Per prendere proprio bene Il pallone Bel gol Sì sì Però torniamo Al Checco dello Scapicollo Perché a Cristian Menei Non hanno rubato la macchina Fortunatamente Ma con lui Un grande protagonista Il presidente testa Proprio della compagine Checco dello Scapicollo Prego Cristian E siamo qui con il presidente testa Del Checco dello Scapicollo Un pareggio per 2-2 contro il Supercicio Una gara intensa Soprattutto nelle battute conclusive Come ha visto i suoi stasera? Parliamo che sì Era un campo difficile Il Supercicio Ha messo in difficoltà Per queste squadre Sono veramente Una buona squadra E noi Noi insomma Stiamo perdendo 1-0 Sono ancora un po' fortunoso Siamo riusciti a riprendere la partita Poi Negli minuti finali Abbiamo avuto il gol del pareggio Comunque va bene così Quest'anno siamo campioni d'inverno Quindi va bene così Oltre al Supercicio Le squadre che inseguono Sono campi più vicine Sia il Global Service Ambiente Che la Lazio Che questa settimana Si sfidano tra loro È un bene Per il Checco dello Scapicollo Che si sfidino Le due seconde In classifica tra di loro? Noi abbiamo affrontato Tutto l'estate Quindi Il calendario Stavolta dice che loro Non sono più diversi Si vanno loro Anche noi siamo Con un punto di retto Perché loro Non facciamo questo pareggio Loro si portano A due settimane Quindi Il campionato è apertissimo Ci siamo tutti Le buone squadre Io non so Trovare nemmeno Il Pizzabumo Che sta un attimo Indietro Però secondo me C'è giocatore di questo Che riprende La classifica È un bel campionato Quest'anno Non sarà facile Sicuramente Ripetere quello Che abbiamo fatto L'anno scorso Ringraziamo il presidente Del chiesto Del chiesto Dello scapigolo In bocca al lupo Gara assolutamente Da seguire Ve la racconteremo Ovviamente La prossima settimana Qui negli studi Di terzo tempo Però Altra gara Molto bella E anche molto importante Classifica la mano Della scorsa settimana È stata Sempre giocata La stella azzurra Tra l'FC8 E l'Eurobet Due squadre Impantanate In piena zona retrocessione Ma due squadre Tutto sommato In salute Andiamo a vedere Com'è andata Con il commento Di Marvin Ageloni Buonasera a tutti Dalla stella azzurra Sfida Per allontanarsi Dalla zona calda Della classifica Tra Eurobet E FC8 Dubisce il recupero Dalla difesa Ma se ne va Messina Prova a rimetterla Al centro Pala all'indietro Conclusione Incredibile Finisce sul palo Di La Rosa Pericolo per L'FC8 Gran conclusione Di La Rosa Da fuori Di esterno La palla è finita Sul palo Prova a trovare Lo spazio Ma sbaglia Il controllo Tanti errori Da una parte All'altra Poi ad andarsene Caforio E ad approfittare Tanto Messina Ancora di Aro con Caforio Al centro Per Apoloni E libero E prova la conclusione Ma gli si oppone Bastesin Miracolo Ad occuparsi Dalla rimessa Laterale Palla lunghissima Verso Messina E prova Di testa E funziona Lo schema L'appoggio Verso La sinistra Coglie Benissimo Sioni In appostato E pronto Ad insaccare Messa Lunghissima Con le mani Verso Apoloni Ormai Uno schema Fizzo Cercare La fisicità Il numero 9 Maglia rosa Valerio Ottimo Il servizio Adesso Fioramonti Deviazione E c'è il Gol Pareggio Dell'FCA8 Conclusione Di Fioramonti Deviazione Sfortunata Chiede Gioco Ancora Simeone Simeone Che non riesce Dell'FC8 Sicuramente due episodi Da rivedere Per la bellezza Degli interventi Trattenuto Ci sarà calcio Di rigore Per la trattenuta Su di Ludovico Quindi Se dovesse segnare Cafforio Parte Cafforio E spiazza Completamente Bastesin Che dopo il miracolo Subisce Questo gol 2-2 Tra Eurobet FC8 Negli ultimi minuti Quindi vedremo Sicuramente Un bel rush Un po' chiuso L'Eurobet Non Non permette L'FC8 Di avanzare Conclusione Da fuori Di Baroni Batti e ribatti La palla torna a lui E poi arriva Sui piedi di Pasquale Assalto D'FC8 Disperato Trovare tre punti Importanti Di Carlo Da solo E gli si oppone Di Pasquale Ci vuola via Il pallone Pericolo Intanto Conclusione Al volo Interviene sul pallone Batti e ribatti Ancora Bertini Angeli Passaggio ottimo A Fogler Che conclude Ma Bastesin Si prende Il 10 Della serata Però l'appoggio Politano Valerio controlla Ben tre su di lui Valerio non riesce Ad andarsene Alla morsa Dell'Eurobet Finisce qui il match 2-2 Tra Eurobet FC8 Vantaggio momentaneo Di Simeone Nel primo tempo Per l'Eurobet Tanta sfortuna Tanta sfortuna Oggi ci ha detto Veramente male Abbiamo fatto una buona prestazione Soprattutto al secondo tempo Primo tempo Levando la seconda parte La prima parte Eravamo un po' troppo dietro Però Buona prestazione Mi hai detto bene tu Sfortunati Ci dice Ci dice un po' male Però comunque Ci crediamo Assolutamente Gran partita Partita molto tirata Quella tra FC8 E' arrivato proprio pochi secondi Prima della diretta Un comunicato ufficiale Da parte del direttore sportivo Gianni Trapasso Che dice appunto Che la società FC8 Ci tiene a ribadire Che il ciclo Fisiomed Cioè la vecchia denominazione Due volte campione della Lega Si è tutt'altro che esaurito Con il cambio di denominazione La dirigenza ha sempre lavorato E continuerà a farlo Per proporre in ogni stagione Un gruppo unito e competitivo Siamo la società più longeva Della Serie A E la più vincente Questo comunicato Perché Dalle parti Della FC8 Ci hanno fatto sapere Che insomma Qualcosina che è stata detta La scorsa settimana Qua nei nostri studi Noi è molto piaciuta Quindi hanno tenuto A ribadire la loro cosa Insomma noi Ovviamente diamo libero spazio A tutti Complimenti anche all'FC8 Che in ultime settimane Sta facendo benino Sta facendo benino Anzi direi più che bene Anche e soprattutto Perché in porta Sta trovando portieri importanti In ultime settimane Ha giocato Lazzarini Settimana scorsa Ha giocato Bastesin Che in questa occasione Si supera letteralmente Opponendosi Caro Davide Questa è la classicazione Da bomber Ad Apolloni Apolloni controlla con il petto Gira con il destro Basta si impara Una palla illegale Grossa parata Bravissimo Poi un tiro ravvicinato Bravo Bravissimo il portiere Senza paura Bravo Veramente una gran parata Se si dovesse E la faremo ovviamente È tempo di ritrovare La macchina da Matei La classifica Dei migliori portieri Del campionato Delle migliori parate Del campionato Questa qua di Bastesin Meriterebbe un posto Sicuramente tra le prime A proposito Di comunicati E di interviste C'è stata un'intervista Fine settimana scorsa Visto che parliamo Di FC8 Eurobet Quindi spostiamoci Sul fronte Eurobet Con De Marco Uno dei protagonisti Appunto fin qui Della stagione Della compagine rosa nero Che appunto dice Abbiamo pareggiato Una partita sfortunata In cui abbiamo fatto il massimo Il loro portiere È stato il migliore in campo Infatti l'abbiamo visto Sicuramente dobbiamo migliorare La gestione del match Perché li siamo fatti rimontare Questa è una stagione complessa In cui ci sono davvero Tante squadre forti A conferma di quello Dicevi anche te Davide Bettinelli E noi non possiamo più sbagliare La posizione in classifica È penalizzante Ma dobbiamo guardarci le spalle Ma pensare Ma pensare positivo Come il presidente Cencetti Che sono un obiettivo Alla nostra portata Finalmente torno disponibile Dopo 3 giornali disqualifiche Spero rifar bene Contro Ragnatela Pab Che ovviamente Aggiungerei io Uno scontro diretto Quindi addirittura Davide L'Eurobet Che sta 4 punti Sopra di voi Non smette di puntare Anche a playoff Di postazione in classifica È corta comunque Allora ci dobbiamo provare Anche noi Lo sceglilo A pensare a playoff Ma Sognare non costa nulla Quindi È giusto che loro pensino Di poter Poter arrivare A playoff Anche perché Ecco Lo dicevamo Il non esaltante Momento riforma Del pizza boom Sta rilanciando Diverse squadre Però La gara 3 FC8 È stato anche Giampaolo Morza Occasione per un nuovo arbitro Per debuttare Nella serie A Della Lega Cacciotto Chi è stato? Andrea Mondello È un arbitro Che ha debuttato In questa stagione Nella Lega Cacciotto Ha molta personalità Anche quando Si è visto Ha dato Questo calcio di rigore Non è da tutti Quindi Secondo me Fa la strada Però A proposito di questo calcio di rigore Me lo commenti un attimo Perché Giannini Il capitano L'FC8 C'è la mano stretta Lo tira giù L'arbitro Alle due passi Ha visto il rigore Il rigore c'è Giusto il rigore? Sì Guarda Sta sempre La vicinazione L'arbitro Quindi Vedi che Gli tira la maglia Scusami Oggi Ti voglio un po' confruttare Perché la settimana scorsa Io ti ho trattato Un po' che i guanti Mi hanno detto Sì Ma È possibile che Invece di dare La strattonata Abbia segnalato Il calcio Che dà Giannini Perché Giannini Dà anche un calcio All'avversario Sbaglio No Con la gamba Con la gamba destra La gamba Il braccio Comunque lo tira giù Intorno al collo Guardate dove sta il braccio Intorno al collo Lo tira giù Ottimo Bravo Andrea Sono molto orgoglioso di lui Quindi scelta giusta Sì E poi era una scelta pesante Perché erano gli ultimi minuti Nel filmato Della partita precedente Ha albitrato Cioè io Ha albitrato bene Per me Promette 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 anche O meglio Promette una Pronta rimonta Anche il Professione Casa Perché Questo 2013 Non ha iniziato Proprio benissimo Coglie la prima vittoria Di questo nuovo anno Proprio la settimana scorsa Contro il calcio video Non è una vittoria Ma una grandissima vittoria Per 7 a 1 Che affossa Sempre di più Purtroppo per loro Le ambizioni Dei ragazzi Del calcio video Professione Casa Calcio video E' arrivato il grande freddo A Roma E' arrivato il grande freddo Anche sulla Lega Calciotto Fa freddissimo Questa sera Quello Sport City Dove una contro l'altro Si affronteranno Professione Casa E calcio video Punto com Che comunque Dispone L'unico uomo in barriera Che è De Angelis Maschietti Cross in mezzo Di testa Conclusione C'è il gol Gol del Professione Casa Su calcio di pulsione Di Maschietti Puntuale Lo stacco di Ferrante Ancora lui Torna a segnare Fabrizio Ferrante Calcio video Ora prova a impostare Ottimo L'intervento In interdizione Siamo già l'altra volta Ferrante Ferrante in verticale La palla sotto E c'è il gol del 2 a 0 E c'è il gol del 2 a 0 Il neon trato pistone Recupera palla Dialoga con Ferrante Poi deposita Con un morbido tocco d'esterno Tutti i giocatori Eccezio fatta Del proposto Dentro la rigore Il Professione Casa Aquilina Spazio per il tiro Conclusione con il testo C'è una deviazione La palla termina Alle spalle dei gambetti E allora Quando siamo al minuto Numero 18 Del primo tempo Accorcia le distanze Il calciovideo.com Professione Casa 2 Calcio video 1 In rete ovviamente Da assegnare Al numero 11 Del calciovideo.com Visto che il suo tiro Era diretto nello specchio Ancora Maschietti Conclusione col Mancino E si inventa Una gran giocata Tempo neanche 60 secondi Il Professione Casa Riallunga nuovamente Nel punteggio Questo non è un gol È un gran gol Di Manuel Maschietti Inizia in questo istante Il secondo tempo Qui allo Spursiti Tra Professione Casa E calciovideo.com La Iatarola Boldrichini Gli toglie palla Ancora Boldrichini Ancora Boldrichini Entra dentro il rigore C'è una trattenuta La Iatarola È calcio di rigore Boldrichini Sul punto di battuta Parte con il destro Palla alle stelle Incredibile Arriva ancora tre piedi Del calcio di un motocomp Con De Anges Che però la perde Gran giocata di Maschietti Si coordina con il destro E del proposto Guarda quello Spursiti D'Antonio Palla e mezzo Pistone non interviene Ferrante Anziché calciare Verso la porta Di fatto allontana Ma ancora Pistone Gran giocata di Pistone Col Mancino Grandissima giocata di Pistone Probabilmente la chiude Pistone Con un grandissimo Giocata col Mancino Che trafigge per il gol Del 4-1 Ancora una volta Del proposto Gran giocata Veramente Dei tre giocatori Con la maggior tecnica Del Professione Casa Vale a dire Per azione Ferrante col Mancino E ancora lui Ancora Professione Casa Ormai il risultato Diventa larghissimo 5-1 per i grigiorossi Ha segnato ancora Ferrante Alla lunga del numero 14 Il calcio video.com Di perna Palla in verticale Verso Ferrante Else nel proposto Ma Ferrante Di testa Lo anticipa Si porta a casa il pallone Sigla la sua tripletta E cosa più importante Fissa il risultato Sul 6-1 Per il Professione Casa Ti vediamo ancora Impietoso Di 6-1 A favore del Professione Casa Ferrante Autentico Man of the match Con una tripletta Scarica per Maschietti Ancora Maschietti Progressione di Maschietti Del proposto Continua a negargli tutto Poi Maschietti La riprende E prende soprattutto la mira Conclusione con il destro Del proposto è fuori porta La palla si infida in rete Risultato che si Che aumenta nuovamente Nel parziale E aumenta nuovamente A favore del Professione Casa 7-1 Allo Sporzini Contro il Mr. Jeff La compagine giallonera Rimane sempre più distanziata All'ultimo posto In classifica Con appena un punto L'attivo Intanto Palla in verticale Per Barrese Colpo di tacco Incredibile Salvataggio Riboldrichini Che proprio allo scadere Nega Barrese Probabilmente Il gol Più bello Della stagione Si va a tutti i risultati Con il risultato finale Di Professione Casa 7 Calciovideo.com 1 Beh al morale Da tanto Diciamo che finalmente All'ultima giornata Siamo riusciti ad avere La formazione al completo Abbiamo schierato la formazione Tipo E si è visto in campo Per ora Per come stanno le cose Puntiamo Al settimo posto La salvezza tranquilla Poi Vediamo Intanto Di raggiungere Questo obiettivo E se ce la facciamo Come noi I playoff Credo sia La nostra portata È interessante Vedere anche Come si Alternano Le dichiarazioni La Robetta Ha detto De Marco Noi puntiamo Ancora Ai playoff Iatarola Capitano Nel Professione Casa Che sta anche Un punto avanti Alla Robetta E dice No noi puntiamo Innanzitutto La salvezza tranquilla Insomma Cambiano gli obiettivi Bettinani Che non ci ha capito nulla Ha detto A questo punto Ci puntiamo anche noi Ai playoff Insomma È tutto un po' Una gran bella Macedonia Di obiettivi Se mi passate Questo termine Però Giampaolo Partita da Professione Casa E calcio video Decisa Almeno dal mio punto di vista Anche e soprattutto Da questo episodio Questo calcio rigore Deciso perché Boldrichini Ha sbagliato Questo calcio rigore Però questo era un episodio Che rischiava seriamente Di riaprire una gara Iatarola perde Palla a centrocampo Strattona Per il braccio Boldrichini Pallone tra l'altro Più una realizzazione Rigbistica Un calcio rigore questo Però qualcuno Prima della messa Mi faceva notare Che questo è un fallo Che inizia fuori aria E secondo poi Ti chiedo io Non rischiava il rosso Iatarola No no Ma guarda Avevo ragione prima Quando il 10 C'era il limite dell'aria Quindi Non è Non era da rosso No 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 L'arbitro è da Detarguire Perché l'ha munito In maniera molto scomposta Non mi è piaciuta Come ha Cacciato il cartellino Nemmeno ha guardato Il giocatore Quindi Gianluca Tomeo Sarà retarguito Per questa cosa Però Non vorrei Fartelo retarguire di più Ma Effettivamente Inizia fuori aria Sì vabbè Però dico Me l'ha fatto arrivare Il mio regista Antonello Carbonaro Che mi ha detto Guarda che il fallo Inizia fuori aria In effetti In effetti Iatorola Lo strattona Sì 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 Inizia a lo Lo tira Vedi la prima strattonata È fuori Guarda proprio All'interno dell'aria È fuori Sì però Lui Dà il vantaggio Dira Proprio lì Vabbè Il rigore c'è Il rigore c'è No te l'ho chiedo Perché No no c'è Perché poi Lì ha anche Cercato di farlo proseguire Poi Ha continuato Nello strattonare All'interno dell'aria Quindi il rigore L'ha data Non mi è piaciuto Il modo in cui Ha munito il giocatore Cosa che non si deve mai fare In quella maniera Questo era un episodio importante Perché questo rigore È stato assegnato Sul 3 a 1 Per il professione casa In caso di gol Di Boldrichini Il risultato sarebbe Modificato sul 3 a 2 Gara caratterizzata Anche questa Caro Davide Da una serie di episodi Diciamo abbastanza Particolari Dal punto di vista tecnico Il più particolare Il più bello Di tutti ovviamente È questo di Barrese Che proprio in zona Cesarini Rischia di fare forse Il gol più bello Tra i più belli dell'anno E forse tra i più belli Della sua carriera calciottistica Colpo di genio Il difensore del calcio video Sulla riga Gli nega una bella soddisfazione Sì È stato un bel gesto tecnico Però Sul 7 a 1 Avrei evitato Di fare un tacco Ti sembra un po' irrisorio? Sì O irridente Scusami Irridente Ne confronti gli avversari Sì Sicuramente Non l'avrei fatto io Colpo di tacco All'ultimo Non è che Mi dispiace Magarlo dirlo Però Mi sembra un po' esagerato Un tacco All'ultimo minuto Sul 7 a 1 Però sarebbe stato un gran gol Sì sì Un gran gol Però magari Lo vorrei vedere Sullo 0 a 0 All'ultimo minuto Sarebbe fatto così Beh certo In un altro momento Probabilmente Tra l'altro Palla data da Fabrizio Ferrante Che nell'ultima settimana Ha fatto appunto Una tripletta Contro il calciovideo.com Ferrante Tra gli attaccanti Sicuramente più Più sorprendenti Di questa Lega Calciotto Ma semplicemente Perché l'anno scorso Non ha disputato Questo campionato Ferrante che sta Trascinando al pari Di Manuel Maschietti E anche di Pistone Che abbiamo visto appunto Nel servizio Abbiamo andato poco fa E con puntualmente La classifica marcatori Ferrante è terzo in classifica Con i suoi gol Al pari ovviamente Delle giocate Di alcuni suoi compagni Succitati Sta trascinando La professione casa Non soltanto Fuori dalle sabbie mobili La zona retrocessione Ma anche e soprattutto A ridosso Perché no Della zona playoff Giampaolo C'è Davide Bettinelli Oggi Ti ho detto È un bel segnale Il fatto che i giocatori Si espongono Anche a un confronto televisivo Con noi arbitri È un esempio Da mandare avanti Ti spiego Se te vuoi venire Sempre qua E facciamo fuori Iori Per me va benissimo Quindi se te mi dici Ok Cambia l'asset Iori non si tocca Chi lo è bene a Iori No ma che assolutamente Providenziale Providenziale Ho pure ringraziato Inizio trasmissione Sì sì Ho visto La settimana scorsa È stato proprio impeccabile Quindi Iori Resta al suo posto No è importante Avere il confronto Con i giocatori Quindi Capire quello che succede In campo E fargli capire Che anche Per l'arbitro È una cosa importante Portare a termine La partita In maniera Egregi impeccabile E quindi Che l'arbitro Sta lì Non contro i giocatori Ma a far sì Che il gioco Venga rispettato E vengano rispettate Le regole Quindi Ci vuole il dialogo Dal mio punto di vista Vedo Bettina Un po' perplesso Io sono d'accordo Perché Ci deve essere un dialogo Soprattutto Se A parte Si devono abbassare i toni Perché alcune volte Noi giocatori Esageriamo Soprattutto Ci lasciamo andare troppo E Poi L'arbitro Non è so Frasi circostanze Non è perché Sta qui vicino a me Il designatore Designatore? Sbaglio Ecco Non è perché Sta qua vicino a me Ma Come sbagliamo noi giocatori Sbagliano anche gli altri Rapidissimo Sguardo anche al prossimo turno Perché ovviamente L'ha detta anche una cosa In chiusura della trasmissione Odierna Prossimo turno che si è aperto Col pareggio tra Superciccio E che con lo scapicollo Eurobet Ragnatela Pub Gara che potrete seguire live Alla fine della nostra puntata Di terzo tempo Sempre naturalmente collegati Sul nostro canale streaming Stiamo a 2005 Studio Buonfiglio Calcio Video Ammers Obbligatorio fare punti Per voi in questo turno Caro Davide Perché ovviamente Insomma c'è una lotta salvezza Da continuare alimentare FC8 Mr. Jeff Pizza Boom Professione Casa Chiude come detto Il big match Della giornata Tra la Global Service Ambiente E Lazio Calciotto Si saprà probabilmente Chi sarà a tutti gli effetti L'antiche Cotello Scapicollo E poi soprattutto Entrambe le squadre Hanno una ghiotta occasione Per recuperare punti Sulla capolista Che oggi è stata fermata Sul pari Dal Superciccio Come detto Vi lasciamo accompagnati Della telecronaca Di Cristiano Medè Per quel che riguarda Eurobet La Ragnatela Pub Io ringrazio Nell'ordine Davide Bettinelli Grazie a voi Grazie È stato un piacere E grazie naturalmente A Gianpaolo Morza Ci vediamo lunedì prossimo E grazie naturalmente A chi ha deciso Anche questa settimana Di trascorrere tutto questo tempo In nostra compagnia Buon proseguimento di serata Buona settimana a tutti E naturalmente Buona Lega Calciotto A lunedì prossimo Grazie Buona settimana a tutti A presto A presto A presto A presto Grazie a tutti.